Voi avete visto che siamo ormai oltre gli 80.000 contagi? Almeno per la mia attività devo fare lo slalom oramai, abbiamo centinaia di positivi intorno a noi. Ora, il dato importante è che abbiamo meno ricoveri in terapia intensiva, quindi anche chi viene contagiato regge il contagio in maniera accettabile. Però cominciamo ad avere problemi nei reparti ordinari perché abbiamo pochi ricoveri in terapia intensiva, ma nei reparti ordinari noi continuiamo a non scendere e questo complica l'assistenza per i malati non Covid. Questo è il problema che rimane aperto. Allora, per cortesia, manteniamo l'uso della mascherina. Certo, ma togliete quando bagnate la pastiera, ma quando andate a fare la movida manteniamo la mascherina. Lo dico ai ragazzi, alle ragazze, quando si entra a scuola, quando si esce da scuola. È un piccolo sacrificio, ma è prezioso per evitare il contagio.